San Giovanni Neumen. Servo di Dio e dell'uomo. Il tuo desiderio di portare tutte le anime a Cristo. Ti ha spinto a lasciare la vostra famiglia. La casa e il paese. Ti chiediamo per noi la grazia di vivere. Degnamente nello spirito del nostro battesimo. Così che tutti i nostri pensieri. Parole. E azioni di tutti i giorni. Ci guideranno verso Dio. Nostro Padre con onore e gloria. Ti chiediamo per noi. Le grazie necessarie per aiutare. E servire i poveri. La sofferenza e gli oppressi. Indicaaci di vivere come hai vissuto. Perseverando in ogni difficoltà. Di riconoscere e di fare la santa volontà di Dio. O glorioso San Giovanni. Intercedi per noi. Donaci la protezione di Maria. E la grazia di Gesù Cristo. Nostro Signore Redentore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.